Un nuovo video da Cassiani CHR Oggi ragazzi siamo con Alberto e Benante Bella Siamo senza i due I due del team Cioè Alfredo e Simone Perché Avevamo da fare Ovviamente E siamo solo io a Alberto Ecco Sì un po' difficile Un po' difficile in due però L'ultima preparazione Sì sì Poi vi porterò Ma martedìa il video del colpo Sì martedì Eh sì per forza Perché lunedì lo facciamo Ah non lo facciamo Ma lunedì non c'è l'abbonamento Affido Ma vabbè che lo so Può stare anche che c'è torneo Vabbè non lo so Vabbè non lo so quando vi porterò Vabbè Vabbè Dovevo andare a scène Vabbè Bella Siamo nel video Siamo nel video Siamo nel video Voglio seguitelo su Instagram Che è molto legato Mi fa emozionare Siamo nel video 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 Per raggio, per chieto, per raggio, per gaiosi. No, c'è spuglia di merda indissuttibile. Ma è sensata. Si rompe un aereo per un c'è spuglia. Cioè, invece fa tutta l'incontrata, si rompe un aereo per un c'è spuglia. Va va. Bene ragazzi, finisce questo video. Attivate la campanella e iscrivetevi al canale e aggiungiamo 10 like. Allora, fanno vedere il resto da scuola. Allora, infatti. Allora, infatti. Allora, infatti. Allora, infatti. Allora, infatti. Allora, infatti. Allora. 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 ciao ragazzi